Altro corpo per la polisportiva Santa Maria 1932, dopo gli ingaggi di Desio, Teneriello e D'Amendola, in vista del prossimo campionato di eccellenza, ad apportare alla corsa di mister Regidio Pirozzi e Agostino Spicuzza, portiere ex Gelbison ed Agropoli. Dunque tecniche di esperienza tra i pali per il club cilentano hanno promosso nella massima serie regionale. L'atleta classe 1987 nel corso della sua carriera ha vestito le maglie del Bolitana, Gelbison e nella scorsa stagione dell'Agropoli. Il portiere ha firmato ufficialmente per la squadra cilentana nella giornata di ieri alla presenza del vicepresidente del club Antonio Carrano Junior.